Il Silec organizza la festa polisportiva regionale per la terza fascia, riceve nel 1995 il discopolo d'argento al merito dalla presidenza nazionale del CSI. Giuseppe Vannucci. Un saluto a tutti, sono anch'io uno dei tanti catturato dal mio maestro Renato Pizzi nel lontano 65. Ho passato degli anni meravigliosi, ho conosciuto tanti amici che oggi ho rivisto volentieri e assieme a loro penso di aver trascorso degli anni meravigliosi che mi hanno fatto crescere come persona e come uomo. Grazie.